Noi siamo grati e onorati di aver ospitato in Calabria questa Assemblea Generale della rete sindacale dei paesi subsahariani. È importantissimo in questo momento perché il tema della cooperazione internazionale e quindi dell'emigrazione dei popoli va innestato in un ragionamento anche legato alle politiche di sviluppo che in quei paesi si possono attivare. E quindi la cooperazione internazionale è importante non solo per gestire i fenomeni migratori ma anche per creare sviluppo nei luoghi dove c'è bisogno che si faccia sviluppo soprattutto nei paesi sottosviluppati. E poi c'è questo grande tema che dà un messaggio, dalla Calabria si dà un messaggio anche all'Europa. La Calabria è crocivia dell'euro mediterraneo, è una terra di accoglienza, noi l'abbiamo detto anche oggi che può essere la migliore risposta ai sovranismi e a quei tentativi di alzare muri in un'Europa che purtroppo dovrà essere l'Europa dei popoli invece sta diventando alto. E quindi in questo momento dalla Calabria parte un messaggio importante, noi abbiamo detto che il Mediterraneo non può essere più un cimitero dei morti ma deve essere il luogo dove si sviluppa sviluppo e dove si sviluppa anche nuove politiche di accoglienza. Le politiche di accoglienza non si possono fare con la polizia internazionale, vanno fatte con pratiche di accoglienza e noi abbiamo degli esempi importanti. Noi abbiamo detto che a quello che è avvenuto a steccato di cuto a febbraio si deve contrapporre invece l'idea dell'accoglienza di Riace e di quello che ha fatto Mimmo Lucano e di numerose comunità del Mezzogiorno e del Sud e della Calabria che fanno accoglienza tutti i giorni. Quindi lotta allo sfruttamento, lotta al caporalato, lotta al lavoro nero e politiche di cooperazione internazionale di accoglienza che fa diventare l'Europa l'Europa dei popoli di Jean Manet e di Altiero Spinelli. Un'occasione importante, siamo alla settima assemblea dei sindacati dell'area mediterranea, dell'Africa occidentale subsahariana e crediamo che è una discussione, una collaborazione che noi abbiamo con i sindacati di quest'area importante per quello di cui si sta discutendo anche in questi ultimi mesi sul tema delle migrazioni, con un intento ben preciso a aumentare la collaborazione, la definizione di politiche comuni che migliorano la condizione del fenomeno migratorio all'interno dei paesi perché è utile ricordare che si urla spesso all'invasione e all'aumento dei flussi migratori, della pressione migratoria sui nostri paesi ma in realtà il tema della migrazione riguarda tutta l'Africa e le persone si spostano e quindi ogni paese diventa un paese fondamentalmente di partenze ma anche un paese di accoglienza e un paese di transito e quindi il fenomeno migratorio della condizione delle persone che si spostano è un fenomeno molto comune che riguarda molto più di quello che immaginiamo anche fuori dai confini ovviamente dell'Italia e dell'Europa.